La donna immobile, quale il timore del vento, l'uomo salia che ride. Il buffone rientra a casa. Figlia, madre, a te da presto, trova son gioia e il cuore oppresso. Figlia, madre, a te da presto, trova son gioia e il cuore oppresso. Figlia si rende conto all'improvviso di essersi tradita e che può perdere anche Marrico. All'amore, l'amore, un dardo, le favelli in mio favore. E' notte. L'esercito del conte di Luna ha riconquistato la fortezza di Castello. La campana che suona morto e un coro di monaci che canta un miserele annunciano l'imminente supplizio per i due prigionieri. La campana che suona morto e un coro di monaci che canta un'amore. Dio l'onore a Dio, Dio l'onore a Dio a Dio. Di tu e di te scordarmi, di tu e di te scordarmi. Amore che faccio in te, non ti scordarmi, non ti scordarmi mes. Dio l'onore a Dio, di tu e di te scordarmi, di tu e di te scordarmi. Amore che faccio in te, non ti scordarmi, non ti scordarmi mes. Di tu e di te scordarmi, di tu e di te scordarmi, di tu e di te scordarmi. Mi avrai ma fredda e desanime spoglia. Leonora ha avuto salva la vita del suo amato a caro prezzo. Chiede di essere portata nella prigione dove il Marrico è ancora rinchiuso. La fanciulla lo supplica di fuggire. Fattene, donna, io ti abominio, ti maledico. Leonora è disperata, tenta ancora di convincere, ma ahimè, il veleno le lascia più scalda. Si sente mancare e cade tra le braccia di Marrico. La fanciulla è disperata, tenta ancora di convincere, ma ahimè, di tu e di te scordarmi, di tu e di te scordarmi. E ti abominio, di tu e di te scordarmi. Non esistono, non esistono, non esistono, non esistono. Non esistono, non esistono, non esistono. Io lo prego. 6 marzo 1853, Teatro La Felice di Venezia, debutta in prima assoluta La Traviata. Alfredo ancora non può credere che tutto ciò sia vero e si sente in paradiso. Perchè non abbandonare la vita che fa per amore? Perchè sono illusioni, per lei non potrà mai essere, lei è una cortigiana e non può essere amata. Quando leggerete questa lettera, Alfredo, io sarò già l'amante di un altro. Perchè non abbandonare la vita che fa per amore? Dio 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 Dio